Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove ti spiegherò come promuovere il tuo sito web gratis Il primo modo che puoi utilizzare per promuovere il tuo sito web gratis si chiama Quora Questo è il sito di Quora, inserisci una keyword per cui è realizzato un articolo Ad esempio migliori computer, clicca il pulsante invio Questi qua sono utenti reali e stanno cercando una risposta Qual è il miglior computer portatile in commercio? Qual è il miglior computer per studenti di ingegneria informatica? Miglior computer da 300 euro Apri tutte queste domande e dai del valore Mi raccomando non scrivere due righe e subito il link di un articolo che hai realizzato Perché probabilmente ti banneranno Ad esempio questo utente adatto al valore ha utilizzato pure le lenti puntate E dopo ha inserito il link di un suo articolo Puoi utilizzare questa strategia anche tu Il secondo consiglio è quello di sfruttare sempre tutti i formati Non esiste solo il formato blog e articolo Ad esempio questo blog inglese Backlink nella home inserisce la newsletter Quindi tu puoi inserire la tua email e lui ti invierà una notifica quando uscirà un nuovo articolo E dispone anche della sezione blog dove pubblica i suoi migliori articoli Uno può vedere ce ne sono parecchi Inoltre sotto ci sono i vari profili social Come ad esempio YouTube ha più di 450.000 iscritti Quindi diciamo che si sta promuovendo molto bene E fanno parecchie visualizzazioni sui video Ordina per i più polari Questo video ha più di 2,5 milioni di visualizzazioni che sono tantissime Considerando anche la nicchia che parla di SEO e di marketing Questo invece è il suo profilo Instagram a 5.000 follower Ma questo è un profilo privato perché è una pagina aziendale dove dà valore ai suoi follower Questa invece è la sua pagina Twitter dove dà valore ai suoi follower Promuove i suoi articoli come ad esempio questo Dà dei consigli riguardo al content marketing Mostrante dell'infografia L'infografia sono molto utili per tratturare l'attenzione degli utenti E incentivare la condivisione di quel post Anche un profilo LinkedIn Anche qua pubblica degli articoli Ok qua parla della newsletter sta dando del valore Come puoi vedere ci sono parecchi commenti quindi è un profilo molto attivo Il terzo consiglio è quello di dare valore nei forum Ad esempio se è un sito che parla di tecnologia o di recensione Basta vai su Google, scrivi forum tecnologia, apri tutti questi siti web Ti iscrivi e dopo dai valore agli utenti E dopo un po' che hai acquisito fiducia negli utenti Puoi anche inserire qualche URL del tuo sito web Ad esempio questo si chiama tecnologia casa È un forum di tecnologia e puoi iscriversi completamente gratuitamente Questo è un forum molto grosso e molto popolare Ci sono anche io che lo utilizzo per promuovere i miei articoli ogni tanto Ma soprattutto do valore agli utenti che sono anche appassionato di tecnologia Come puoi vedere ci sono diverse sezioni News e annunci Presentati alla community Mi raccomando cerchi di non farti bannare dagli utenti Questo è un esempio di post che hanno fatto all'interno di questo forum Questo è un altro forum molto grosso Si chiama forum every eye Anche qua sono presente anche io E do valore agli utenti Come puoi vedere ha un dominatore piuttosto alta di 79 Quindi ottieni un link che aiuterà tantissimo A migliorare il posizionamento e ottenere del traffico da Google Non esistono forum solo per il mondo del marketing o della tecnologia Ma anche forum per quanto riguarda le ricette e la cucina Esiste qualche forum per ogni nicchia Mi raccomando utilizzali correttamente E la regola è sempre la stessa Qual di dare valore agli utenti Mi raccomando se ti è piaciuto il video Lascia un mi piace e clicca al pulsante rosso Per iscriverti al canale Se ti interessa aumentare il traffico del tuo sito web Trovi il link in descrizione di un video che ho realizzato Yeah